E allora eccoci qui ragazzi, buongiorno, buona domenica ai campi d'Italia e alla squadra capolista perché abbiamo fatto il nostro dovere, un like qui sotto, iscrivetevi qui in questa zona ragazzi ho perso già la voce perché ieri 4 esultanze mica male devo dire che si porta a casa una buona prestazione, non perfetta non siamo ancora macchina perfetta ma lo potremo diventare tante belle sorprese, i due gol subiti che danno un po' fastidio però ripeto andranno sistemati anche questi aspetti non lasciamoci condizionare del risultato in extremis della seconda squadra di Milano ragazzi noi andiamo avanti con il nostro percorso come abbiamo fatto l'anno scorso e siamo soddisfatti credo di parlare un po' per tutti o quasi della prestazione della squadra c'è sempre questo approccio un po' così, l'approccio che non è sicuramente esaltante anche a Vicenza, in Ungheria e questo deve insegnare che nelle prossime partite l'approccio sarà molto importante a partire dalla gara con l'Atalanta di domenica abbiamo comunque recuperato, siamo andati in vantaggio, abbiamo ritrovato il vantaggio una squadra che quando gioca a ritmi importanti ha verticalizzato con anche fraseggi di grande caratura spesso e volentieri e aveva anche qualche assenza, lo ricordiamo partiamo subito con le pagelle con anche dei numeri molto interessanti, l'MVP prima vi ricordo che se scaricate dal link qui sotto l'app di numero 10 uno di voi si porta a casa la maglietta del Milan della stagione iniziata ufficialmente ieri basta scaricare l'app gratuita qui sotto e mettere il proprio nome nei commenti fatelo numerosi adesso alla fine di questo video devo dire che abbiamo preso 2 gol come le ultime 11 partite però abbiamo fatto anche 4 gol cosa che a parte la gara col Sassuolo facevamo un po' fatica a fare noto tante cose positive che là davanti abbiamo tante alternative alla fine sono entrati De Ketler, Rorigi, Giroud cioè ha tanta varietà che l'anno scorso mancava detto che qualcosina ancora dal mercato deve arrivare secondo me è un difensore, un centrocampista, non soltanto secondo me e bene, sorprese, le sorprese che non ti aspetti a livello di interpreti adesso ne parliamo ditemi le vostre impressioni, scrivete qui sotto i commenti Mignan sui due gol secondo me non può nulla se prende il secondo gol fa un miracolo, una grande parata ha fatto un lancio su Messias chilometrico, cioè chirurgico ha parato poi su Lovric nel secondo tempo poi l'ha respinta quando Salemacher si ha dormito un po' sul loro colpo di testa gli do 6 non particolarmente sollecitato sui due gol secondo me non poteva un gran che gran bella partita di Calabria Calabria mi è piaciuto molto anche l'anno scorso era partito forte il capitano al sesto si è procurato il calcio di rigore ha provato con il tap-in rigore che i ragazzi poi ne parleremo è indiscutibile non perché non sei riuscito a segnare uno ti può travolgere in area se uno ti travolge in area che tu hai tirato o non hai tirato è calcio di rigore non scherziamo ma ne parleremo poi ha fatto l'assist molto bello a Rebic ha tirato anche i calci d'angolo devo dire non male anche se lo abbiamo sfruttati benissimo ne uno contro uno non si è mai fatto superare lui mette la gamba e non si fa superare una bella prova davvero del nostro capitano che si becca un bel 7,5 in pagella Calulu ragazzi top dei due centrali è quello che ha fatto meglio impressiona sempre la freddezza con cui gioca quando loro partono in quattropiede c'è il buco di Tomori lui ne ha due Saxe si mezzo all'aria e Deleufeo che sta entrando azzecca sceglie la tempistica perfetta per andare a chiudere evitando che il giocatore che Deleufeo passi la parola al compagno inducendo Deleufeo a tirare ma va a murarlo quello è un salvataggio incredibile davvero importantissimo non ho sbagliato nulla il voto i due gol non sono colpa sua sono errori individuali non di reparto ma non suoi mi è piaciuto gli do un bel 7 pieno un bel 7 tutto anche 7,5 Tomori invece ha avuto qualche difficoltà quel buco su Deleufeo che trova appunto poi il salvataggio di Tomori anche successivamente con Saxe si era fatto superare non perfetto poi ha preso le misure nel secondo tempo gli do un 6- 6- perché insomma un paio di imperfezioni le ha fatte e da uno come lui ci aspettiamo sempre al massimo cosa che garantirà sono sicuro già dalle prossime partite Teo ha fatto il gol ha fatto il rigore il primo gol del Miel della stagione di Teo Hernandez per il resto era partito bene poi non è riuscito a incidere più di tanto complice magari anche un leao non in serata poi ha provato con quella punizione che non è finita alta di poco di tanto sopra la traversa gli do 6 Ben Nasser Ben Nasser è salito di ritmo di livello nel secondo tempo di intensità ha fatto anche delle giocate ha dato via con un numero all'avversario a torno per le palle grande dinamismo un motorino in mezzo al campo secondo tempo meglio del primo ha fatto anche un bellissimo lancio per Salemakers voto 7 per Ben Nasser un bel voto anche per Krunic che è andato a recuperare palle è andato dove doveva essere ha dato comunque equilibrio anche se ogni tanto nel primo tempo abbiamo ballato un po' lì dalla sua parte ma non per colpa sua anche perché leao non copriva molto 6 e mezzo per Krunic sempre utile Messias allora mi aspettavo una grande prova da Messias perché aveva fatto un ottimo precampionato ha dormito è partito bene per i 5 minuti e di primi 5-10 poi è un po' sparito in fase di di attacco si è visto quando quando ha dormito sul gol di Masina si è fatto uccellare in maniera incredibile poi nel secondo tempo ha fatto qualcosa di meglio una bella palla per leao con quel lancio in area che però leao non c'è arrivato e poi appunto il recupero palla sul quarto gol in generale mi sentivo più sicuro sulla fascia destra nel precampionato ieri non mi ha convinto però un 6- glielo do un 6- glielo do dato che abbiamo tante possibilità può giocare De Kettler sulla destra abbiamo tante possibilità Brahim a proposito di sorprese ragazzi Brahim non so se è subito in forma perché è un peso leggero non so se è il Brahim versione migliore che può tenere questa volta tutto l'anno so che ha risposto molto bene a suo modo agli acquisti di Adli e di De Kettler cioè alla concorrenza con una bella prestazione sul primo gol nasce da un gol da un tiro di destro respinto ha dato poi la palla a Calabria per l'assist sul secondo gol è andato lui con la zampata vincente rapidissimo il suo gol in area classico ne ha fatto qualcuno anche l'anno scorso facendo appunto gol e poi appunto ha fatto anche assist a Rebic guizzi importanti si è preso responsabilità vivace pericoloso a Brahim io do voto 8 sperando possa essere non soltanto l'inizio con l'anno scorso ma un bel biglietto da visita per tutta la stagione ecco volevo recuperare un dato su Brahim che credo possa essere interessante della sua partita con dei numeri che ci fanno capire appunto quanto di buono ha fatto lui allora i dati sono questi 71 minuti di gioco un gol e un assist appunto l'abbiamo detto poi ha toccato 43 palle 83% di passaggi riusciti tiri in porta 2 appunto sempre pericolosi duelli a terra 24 su 8 la metà due falli uno subito due teikel e insomma numeri devo dire importanti ma che non descrivono forse a fondo la partita che ha fatto davvero molto bella quindi il mio voto è 8 7 e mezzo 8 8 leao leao non in serata ieri sotto tono leao ha dormito un po' Correbic sul gol di Becao all'inizio poi è stato abbastanza fuori partita quasi per tutta la partita sulla sinistra abbiamo fatto molta fatica nel secondo tempo ha fatto una gran bella giocata quando li ha portato via l'uomo De Kettler è rientrato sul sinistro ha calciato e lì la palla è finita fuori alta di tanto così ragazzi sono molti sinceri e quindi è giusto che se uno merita l'insufficienza diamo l'insufficienza leao 5,5 ma sono sicuro che abbia riservato tantissime prestazioni di livello per le prossime a partire dalla prossima Rebic dormito anche lui sul soprattutto lui sul gol di Becao perché era più posizionato come nel precampionato un giocatore in palla un giocatore in fiducia un giocatore forte che aveva voglia di fare senza strafare un giocatore molto pratico ha fatto due gol l'anno scorso in tutto il campionato ha fatto due gol quest'anno ho già pareggiato in un video settimana scorsa dieci giorni fa vi dicevo è il nuovo acquisto l'ho criticato quando andava criticato adesso spero proprio che possa essere il nuovo acquisto e lui sinistro 9 davvero un giocatore che quest'anno sembra poter fare la differenza vi dico un po' di numeri 72 minuti di gioco due gol tiri in porta due tiri fuori uno tocchi 40 76% passaggi riusciti poi 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 un teikel e insomma anche qui numeri interessanti che poi magari integreremo 8 8 per Rebic secondo me è meritatissimo e poi chi è subentrato allora partiamo subito con il principino giocatore che in 20 minuti di gioco 25 ha fatto vedere già cose molto molto interessanti ha recuperato palla ha fatto un tunnel credo di tacco è andato a proporsi è andato a portare via l'uomo è andato a fare movimenti ha dato un'imbucata un lancio lungo millimetrico per Giroux bravo a chiamare con il movimento perfetto e ragazzi è stato il gol annullato di destra tra l'altro peccato per quel gol annullato 20 minuti giocati un bel 7 in pagella se lo merita davvero un approccio molto molto di personalità e importante bravo peccato per quel gol annullato ma ce ne farà tanti sono sicuro Giroux voto 6 entrato Sare Makers anche lui è uno sempre molto vivace che inizia a te nel bene o nel male lo vedi sempre voto 6 Pobega anche lui 6 anche se si è fatto un po' portare a spazio in una loro azione e Orighi 6 ha avuto un buon impatto secondo me è un altro giocatore che stiamo sottovalutando tutti un po' troppo grande fisicità ha fatto vedere che comunque il campionato italiano può avere davvero una non dico facilità di giocata ma caratteristiche che possono aiutarlo a fare la differenza voto 6 Mr. Pioli poi vi do il mio MVP 7.5 perché ha azzeccato la mossa a Rebic figlia anche di un grande precampionato ha azzeccato la mossa a Diaz ieri vi dicevo anche a me anche io preferirei la videcater a Rodley però se dice che Diaz ha più ritmo partita fidiamoci è stata una mossa non azzeccata di più azzeccatissima Krunic ha dato equilibrio una squadra che comunque ha fatto bene qualche disattenzione un po' su qualche singolo Messias Rebic e Eliano nel primo tempo nel primo gol però bene 7.5 ricapitolo vi do il mio MVP vi ricordo di scaricare qui sotto dal link l'app di DS uno di voi si porta a casa la maglia del Milan come questa con lo scudetto personalizzabile con il giocatore che volete basta scaricarla gratuitamente fatela scaricare anche i vostri amici o parenti così avete più possibilità di vincerla Meignan 6 Calabria 7.5 Calulu 7.5 Tomori 6.0 Teo 6 7 Benasser 6.5 Krunic 6.0 Messias 8.0 Diaz 5.5 Leao 8.0 Rebic 7.0 De Kettler 6.0 Giroud 6.0 Salemanker Spobega e Orighi 7.5 Pioli sono indeciso tra Rebic e Ebrahim me lo accettate in concomitanza Rebic e Ebrahim il doppio premio MVP no deve essere uno solo sono d'accordo allora allora ragazzi sono molto combattuto il mio MVP lo do a Brian Diaz nulla a togliere a Rebic davvero siamo al millimetro lo do a Brian Diaz perché non era facile aveva tanta pressione tanta magari sfiducia che si sentiva attorno a sé o dentro di sé è stato determinante nel primo gol il secondo ha partecipato nel terzo ha fatto gol nel quarto ha partecipato in generale insomma merita magari questo premio per dare ancora più fiducia quindi il mio MVP è Brian Diaz bene ragazzi tanti like per questi ragazzi prima spunta verde tre punti fa niente se gli altri hanno vinto la fine secondo me non hanno fatto chissà cosa però va bene iscrivetevi qui numerosi scaricate la BDS tantissimi qui sotto è gratuita uno di voi si porta a casa questa maglia personalizzabile con il giocatore che preferisce qui dietro è gratuita lo ripeto chi eventualmente mettereste come nome un abbraccio forza Miloggi più che mai domani ancora di più e se volete una maglietta scudettata la trovate su milanello.com questa qui forza ragazzi bravo Brahim bravi Rebic e tanti altri sì bravo Brahim